Questa mattina presso la sala riunioni della questura di Salerno, il questore della provincia di Salerno, Pasquale Enrico, ha incontrato gli organi di informazione per un saluto di comitato. Enrico dal prossimo 12 aprile sarà in pensione e cede il passo al palermitano Maurizio Ficarra. Certamente quando si lascia c'è sempre un momento di commozione, dopo quasi due anni a Salerno lascio definitivamente la Polizia di Stato per approdare verso altri liti. Voi come ben sapete io sono cultore della materia di diritto processuale penale, quindi continuerò la mia attività all'università, la Federico II, quindi avrò un contatto quotidiano con gli studenti, seguendo le tesi degli studenti, seguendo gli esami e i seminari di approfondimento di specifici argomenti della materia. E' un bilancio su questi due anni qui a Salerno? Il bilancio forse non spetta tanto a me, spetterebbe più ai cittadini dire che cosa ha fatto un questore in questi due anni. Certamente l'impegno da parte delle forze dell'ordine c'è stato, io ho richiamato sempre i miei uomini al senso di alta responsabilità, perché il nostro è un lavoro molto difficile, un lavoro anche sensibile, perché mentre da un verso garantiamo la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, dall'altro verso noi incidiamo sulla libertà personale dei cittadini, di quelli che si rendono responsabili ovviamente di fatti incresciosi, di fatti delittuosi, di fatti criminosi. Quindi è un lavoro il nostro molto, molto veramente difficoltoso, irto di difficoltà, un lavoro che comunque nel quale bisogna riflettere, meditare, però assumere anche decisioni con molta rapidità. Che città è Salerno? Salerno è una bellissima città sotto il profilo naturale, delle bellezze naturali, veramente bella, c'è un mare, c'è un porto che è in crescita, c'è una serie di realtà, sono molto variegate le realtà, perché c'è una diversità per esempio tra la costiera amalfitana, la costiera cirentana, l'agro nocerino sarnese e la piana del sere ovviamente, quindi sono realtà che convivono in questa grossa provincia. E anche questo, diciamo, il richiamo all'impegno della Polizia di Stato in questo territorio è anche dovuto soprattutto alla difficoltà di inserirsi in maniera adeguata nei vari contesti territoriali. Ce l'abbiamo fatta, qualcosa abbiamo fatto, abbiamo tirato le somme anche di un bilancio abbastanza positivo, abbiamo lavorato con alacrità sul territorio, soprattutto anche su Salerno. I grossi eventi come le luci di Artisto, per esempio, hanno dato un impegno forte non soltanto alla Polizia di Stato, ma a tutte le forze dell'ordine che io ho avuto il privilegio e l'onore di coordinare su questo territorio. Grazie. 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 Grazie.